Buongiorno ragazzi, qua è finito da meno di in questo veloci stato il pacchetto di quest'altro tre bustine di nuovo sole e luna, e prendiamo le mie forbici, eccole, e sono il pacchetto di prima mia, non so se si sentirete bene ma sono un po' stanco, Pony, uno, due, tre, quattro, uno, due, Deupyder, Gnolola, Glowlight, Rogernola, Cosmog, Energia, Erba, Pinsir, Tenorball, Pelliper, Dartex, Reverse, Larae, Insineroar, molto carino, stiamo appunto al pacchetto di Insineroar, uno, due, tre, quattro, uno, due, lo senti col dito se c'è qualcosa ma non mi sembra, Staffal, Marei, Rennie, te lo conosco, Deupyder, Bonsuit, Lillipop, Energia, Lotta, Spinda, Lillia, Herdier, Energia in colore doppia reverse, la rara è un altro sole, l'ultimo pacchetto, per favore, Lunana, fammi il miracolo, raga, faticano a uscire le carte, ciò è un buon segno, una parte rimasta dentro, solitamente è un buon segno, se il pacchetto è difficile da aprire, e abbiamo Litten, Psyduck, Monsuit, Lillipop, dratini bellissimo, Energia, Psico, Ultraball, Corsola, Energia in colore doppia, questo reverse, la rara è un desidui, neanche la Olo purtroppo, abbiamo trovato solo queste tre, anche se poi Stoutland già ce ne ho uno, quindi volendo potremmo anche sfogliarlo, dunque qua da Phoenix è tutto, ciao! Ciao!